buonasera a tutti sono francesca e come al solito vi mostro qualcosa di divertente qualcosa di interessante che ho trovato in vendita nei negozi di arte cos'è oggi purtroppo già aperto la confezione si chiama sealing gum di jade sealing gum che cos'è è una pasta siliconica con la quale potrete realizzare dei bellissimi stampi in resina o in altri materiali io uso personalmente la resina ed è consigliato da usare con la resina quindi però non per forza si possono utilizzare anche il gesso o altri tipi di materiali quindi questo silicone e solidifica molto velocemente in soli 5 minuti devi mischiare il componente bianco con il componente azzurro e in questo modo in soli cinque minuti infatti bisogna lavorare velocemente non è poi così facile avrai un calco di qualsiasi oggetto tu scelga quindi se hai a casa per esempio delle conchiglie o degli oggetti che possono servirti da riprodurre potrai farlo allora io per esempio ho fatto il calco di questa bellissima conchiglia come potete vedere e ho realizzato questa collana che devo dire che è abbastanza interessante e come potete vedere ho fatto anche il calco di questa conchiglia eccola qui dal vivo e poi come potete vedere c'è il calco in resina e quindi abbiamo la nostra conchiglia che può diventare un ciondolo da indossare che è già piaciuto a diverse persone quindi allora io ora chiaramente sono un po emozionata perché sbagliare facilissimo prenderò ho già deciso voglio fare il calco di questa ostrica mi piace tantissimo l'idea di fare una cosa naturale e dosare giustamente non è facilissimo prendere la giusta quantità di prodotto vedete ho scelto una quantità così quindi chiaramente devo prendere la medesima quantità nell'altro colore più o meno ci siamo sono due palline più o meno della stessa grandezza ecco ecco qui incomincio a mischiare non è difficile ci metti pochissimo tempo a rendere la pasta chiaramente di un azzurro molto chiaro è molto morbida però è incredibile con che velocità solidifica e costa tanto costa più di 10 euro e quindi è un peccato e utilizzarla male no è bello riuscire a l'altra volta sono riuscita a fare quattro ciondoli con ecco qua ci siamo già come potete vedere il colore è omogeneo quindi possiamo procedere per ora ancora morbida ma nel giro di pochi minuti non lo sarà più speriamo che io non abbia sbagliato le dosi perché purtroppo non sono perfetta ragazzi ve lo dico ecco qui lo storico prendo la mia ostrica dovrei avere avrei dovuto mettere più prodotto però forse ce la faccio e ma sì dai e dopo chiaramente probabilmente entro la fine del video perché io ho sempre paura di fare video troppo lunghi di annoiarvi e di non sono molto professionale nella realizzazione del video purtroppo e comunque io riuscirò a mostrarvi il calco già stasera perché in soli cinque minuti e diventa solido ho sbagliato un po avrei dovuto mettere più prodotto è che sono un po avara perché vorrei fare più calchi come potete vedere ho rivestito la mia ostrica col ecco io direi di proseguire al tanto paganini non ripete se ho sbagliato vorrà dire che niente oramai ecco allora questo l'abbiamo ricoperto adesso al secondo posto ho scelto questa collana di davide crescini che è un artista di mestre e farò la stessa cosa prenderò un pezzo un pezzo più o meno sono grandi uguali però secondo me ne serve un po di più ecco qua ecco qui ok si incomincio a mischiare allora già 4 minuti e 50 di video chi è riuscito a guardare il video fino a qua vuol dire che mi vuole bene e così comunque io sì io sono convinta che la creatività faccia molto bene allo spirito umano che sia una cosa una sorta di psicoterapia e che renda felici purtroppo molte poche persone possono essere creative perché non hanno tempo o magari non sono state educate ad essere creative perché un po' la società ci castra no? ci dicono che dobbiamo essere tutti uguali io invece sono della convinzione che dobbiamo essere tutti come vogliamo insomma quindi facciamo il calco di questo di questa bifora ah non vi ho detto che è una polifora che è una finestra tipica veneziana questo è un po' più complicato devo dire perché essendo traforata è più complicato di quello che sembra vedremo come verrà fuori bisogna un po' rischiare perché io tipo l'altra volta ho fatto 5 ciondoli uno non mi avevo cioè ho dovuto buttare la pasta perché non sono stata brava e gli altri 4 uno è venuto molto bene l'altro anche e gli altri 2 erano così così e quindi niente bisogna un po' come quando esci coi ragazzi no? non sai mai come va devi provare non puoi chi si ferma è perduto un po' la creatività è così no? è un po' come le famose ciambelle non tutte le ciambelle escono con il buco però bisogna bisogna tentare ecco questo è un po' più complicato perché essendo che è come dire un un ciondolo tutto traforato è più complicato fare lo stampo della polifora dei palazzi di venezia e ci siamo due vediamo cosa verrà fuori andiamo al terzo ciondolo ho scelto questo questo praticamente ex voto che purtroppo non posso togliere dalla catenina perché sarebbe stato meglio quindi prendo la pasta come prima ecco qui e molte altre persone hanno fatto questo video però io lo faccio anche per condividere con gli amici no? perché comunque io penso che se una cosa la fa una persona che conosci è diverso se la fa uno sconosciuto no? e comunque influenzare i tuoi amici è più facile perché li conosci quindi io un po' questo video non lo faccio con grandi pretese perché so benissimo di non essere molto brava ma lo faccio più che altro per stimolare le persone che conosco più vicine a me come i miei parenti e i miei amici ecco qui e comunque si a breve interromperò il video perché oramai avete capito anche se sarebbe bello potervi mostrare in diretta i calchi già solidificati come questo appunto e poi domani farò le collane di resina come appunto questa e sono alla ricerca ecco qui guardate si solidifica subito è una cosa incredibile non si può cioè chi ha tempo non perda tempo veramente questo è pieno di dettagli chissà cosa verrà fuori ma bisogna tentare e io ho visto una mia amica che li fa ma è pieno di gente che fa questi ciondoli bisogna cioè non è un'idea molto originale poi dipende da come li fai nel senso che sia la scelta delle cose di cui fare il calco rende completamente diverso il progetto chiaramente se scegli una cosa banale se invece scegli devo dire che la conchiglia che ho scelto io l'altra volta era molto bella e poi oltre a questo il successo è determinato anche dalle cose che metti dentro la resina perché chiaramente molti artisti fanno delle opere in resina ma cambia moltissimo il risultato finale dal tipo di materiale devo ammettere che i fiori secchi ci stanno molto bene dentro che è un po' banale perché lo fanno in molti però io ci ho messo dentro anche dei brillantini anche degli oggetti ci sono molti artisti che usano la resina io la uso da sempre è un po' uno dei miei materiali io adoro la resina da sempre e c'è un famoso artista di Praga io abito a Praga quindi sono sensibile lui è quello che io conosco che la usa di più che si chiama Dave Cerny che dentro la resina questo è molto difficile perché è pieno di dettagli questo ciondolo è molto facile sbagliare e poi mi raccomando quando usate la resina è fondamentale mettere la giusta quantità di catalizzatore perché io purtroppo ero a fine ho provato quello che viene fuori viene fuori speriamo bene e se purtroppo sbagliate la quantità oh guardate ho ancora un bel po' di prodotto questa volta forse sono stata più brava forse dico perché non ne sono sicura allora proviamo a vedere se riesco a fare il quinto perché l'altra volta sono riuscita a farne solo quattro vabbè ragazzi siamo a dieci minuti nessuno guarderà questo video per intero è impossibile chi lo guarda innamorato di me grazie perché io ho bisogno d'amore ragazzi non non sicuramente c'è troppo poco amore nella mia vita decisamente allora ho scelto una farfalla una farfalla non troppo grande perché sapevo di avere poco prodotto mi sono pentita amaramente di aver comprato solo una confezione di questo sealing gum di Gede perché è veramente lo adoro lo adoro e si possono fare più di 50 calchi dopo 50 calchi incomincia a rovinarsi per ovvi motivi allora facciamo questa farfalla bene ragazzi come state 14 minuti e 40 una tragedia bene io direi che dopo questa farfalla interromperò il video però vi ripeto ma anche no mi sa che faccio un bel video lungo perché voglio mostrarvi il risultato finale e perché appunto essendo solo 5 minuti di tempo per solidificare i più i più tenerari guarderanno tutto il video e insomma qua non sono tanto convinta che verrà bene perché questa farfalla sporge troppo verso fuori e quindi mi sa che la resina non non avevo calcolato bene le pendenze no in teoria un architetto dovrebbe essere bravo a fare queste cose io vorrei tantissimo un moroso architetto bravo che mi aiuti a fare queste cose però non voliamo di fantasia che le donne devono sempre fare tutto da sole si sa allora vediamo vedete ho rivestito la mia farfalla il meglio che potevo chiaramente fare i bordi un po' alti in modo che la resina stia bene dentro alla nostra piccola struttura in silicone perché poi andremo a versare qua dentro il silicone allora ho fatto un tentativo sarà come sarà ok allora prendiamo questo ok io vi posso dire che ragazzi sì forse ho sbagliato vediamo oddio emozione emozione speriamo bene speriamo bene speriamo bene ragazzi che non si rompa tutto che non ho fatto uno strato troppo fino che non ho aspettato troppo poco ahhh ragazzi ragazzi ecco ecco io sampo evviva che gioia che gioia no guardate ragazzi questo ceiling di jed è una figata assoluta lo vendevano anche alla feltrinelli adesso no adesso lo vendono nel negozio d'arte prevedo che quest'ostrica diventerà un ciondolo meraviglioso assolutamente perché la natura fa delle cose meravigliose bene dopo aver concluso con voi questa esperienza vi saluto vi auguro un bellissimo sabato sera perché è sabato sera io come potete vedere passo mio sabato sera così vi pare possibile e purtroppo gli uomini non sono un grand che nel 2020 e quindi è meglio fare i ciondoli di resina che uscire con un ragazzo nel 2020 bene ciao ciao a tutti un bacione da Francesca dai ciondoli di resina con il calco di silicone di ceiling ciao ciao fatelo anche voi è divertentissimo ciao ciao 15 minuti di video a ciao